Ben ritrovati da Patrizia Simonetti a Non Solo Radio, il settimanale di cinema, teatro, tv e musica da ascoltare e da vedere. Una collaborazione tra Radio Antena 1 e Spettacolomania.it Torna indietro tutta, o meglio, si celebrano i 30 anni del programma cult degli anni 80, nato da quel genio dell'improvvisazione che si chiama Renzo Arbore, e partito il 14 dicembre 1987. E a farlo saranno Renzo Arbore, Nino Frassica e Andrea De Logu, il 13 e il 20 dicembre prossimi in prima serata su Rai 2. Presentata a Viale Mazzini, indietro tutta, 30 è l'ode, L'ode, non un'operazione nostalgia né una festa, ha spiegato Renzo Arbore, ma un nuovo format ispirato alle sue lezioni universitarie e sui programmi televisivi del passato. Quali erano i punti di forza di indietro tutta, tanto da celebrarlo dopo 30 anni? Ma il fatto che fosse assolutamente improvvisato, però anche i messaggi che c'erano dentro, perché c'era il messaggio critico nei riguardi dell'audit, quello delle donne con le ragazze, lo strapotere dello sponsor e quindi il cacao meravigliaro, lo sponsor fit, il bambino che veniva usato. Se dovesse rifare un programma come indietro tutta, cosa prenderebbe in giro della televisione di oggi invece? La televisione di oggi Lui ha delle genialità straordinarie La televisione di oggi, nessuno la prende in giro la televisione di oggi, andrebbe presa in giro Gigi Proietti è tornato sul grande schermo con Il Premio, diretto eppure interpretato nel ruolo di suo figlio da Alessandro Gasman. Racconto di un viaggio in auto di una strana famiglia, quella di Giovanni Passamonte, che deve andare a Stoccolma a ritirare il premio Nobel per la letteratura e che sarà per tutti l'occasione di conoscersi e riconoscersi. Nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Matilda De Angelis e Vrongo New. Ci parlano così dei loro ruoli, Gigi Proietti, Alessandro Gasman e Anna Foglietta. Un uomo che in una settimana di viaggio sintetizza e scopre, ha delle percezioni che ha il rimpianto di non aver avuto durante tutto il resto della vita. Però meglio tardi che mai, insomma. E infatti finisce con un messaggio che secondo me è molto importante, accorgersi degli altri, scendere dal piedistallo. A Radio Antenna 1, da Gigi Proietti, auguroni buon Natale, buon anno, buona Befana, buon Ferragusta. Arrivederci. Sono il figlio maggiore, sono uno che per reazione ad essere per una vita, un'infanzia vissuta con un uomo geniale, primo in tutto, intellettuale, sofisticatissimo, ha deciso scientemente di non studiare, e di dedicarsi allo sport senza peraltro particolare successo e alla ricerca di una piccola vita borghese senza sorprese che gli potesse permettere di avere una vita piccola, rassicurante in un villino bifamiliare all'infernetto. Lucrezia è una blogger che si occupa di letteratura, insomma è un put purri molto contestualizzata, nel senso figlia veramente di questi tempi, che utilizza in maniera smodata questi social per un tornaconto anche economico e personale. È una donna apparentemente molto dura, anche un po' antipatica, che però maschera un'anima molto sensibile e bisognosa in realtà della famosa pacca sulla spalla del proprio padre. Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno a Radio Antenna 1 da Anna Foglietta. Radio Antenna 1, sono Matilda De Angelis, vi auguro buone feste, buon anno e tanta felicità. Ciao. Tanti auguri di Buon Natale e Buon Anno a Radio Antenna 1 da Alessandro Gasman. Rimanete in ascolta. Ruolo da protagonista anche per Francesca Valtorta in Sacrificio d'Amore, la nuova serie di Canale 5 a raccontare di passioni e lotte sociali nell'Italia del 1913. Interpreta Silvia, donna emancipata e sposata, che perde la testa per Brando, cavatore al servizio di suo marito e capo del Movimento per i diritti dei lavoratori, interpretato da Francesco Arca. Silvia ormai è entrata a far parte di me, è una mia costola, perché abbiamo girato sei mesi tutti i giorni, per cui veramente siamo arrivati quasi a una comunione con i personaggi che io non avevo mai provato prima, insomma. Silvia è una donna, un'eroina romantica proprio, è una donna di umili origini e che si sposa per amore con una persona di un certo sociale più alto del suo, ma si sposa per amore, ma a un certo punto la sua vita verrà totalmente travolta da questa passione folgorante per Brando. Auguri di Buon Natale per Radio Antenna 1, un bacio da Francesca. È un rivoluzionario, un rivoluzionario di combatte per tutta la serie, per i suoi ideali, per i lavoratori, combatte per amore, per la famiglia e quindi sono sempre stato affascinato dalle persone che riescono a combattere e che hanno coraggio nella vita e lui lo fa dall'inizio alla fine. A Radio Antenna 1 buone feste, Francesco Arca chiaramente. Tra gli interpreti di Sacrificio d'Amore c'è anche Gaia Messerklinger che si divide tra tv e palcoscenico e fino al 7 gennaio, compresa la notte di Capodanno, è al Teatro Roma in Boing Boing di Mark Camoletti. Io sono Gloria Hawkins, una hostess americana, quindi parlerò anche con l'accento americano, e è la storia di questo uomo molto affascinante che vive nel centro di Parigi in questo appartamento meraviglioso e ha queste tre fidanzate, che essendo tre hostess e avendo rotte differenti non si incrociano mai. E lui ovviamente gioca su questo. Naturalmente la commedia si basa sul fatto che a un certo punto questo meccanismo perfetto salta e queste tre si incontrano in questa casa e ne succederanno di tutti i colori ovviamente. Tanti auguri a tutti gli amici di Radio Antenna 1. Al Sistina invece le feste si passano con Mamma Mia, il nuovo musical di Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba rigorosamente in italiano, e sul palcoscenico con Luca Ward, Sergio Muniz e Sabrina Marciano c'è Paolo Conticini. Uno spettacolo allegro, divertente, spumeggiante, carico di allegria, e quindi staremo per tutto il mese di dicembre al Teatro Sistina. È uno spettacolo che vale la pena di vedere perché è bello, è divertente. Tu sei uno dei tre padri, no? Dei tre probabili padri? Eh sì, il musical è fedelissimo al film. Io faccio la parte di Sam Carmichael che nel film era Pierce Brosnan. Ti senti un po' Pierce Brosnan? Beh sì, mi sono messo anche avesse col ciuffetto un po'. Agli amici di Radio Antenna 1 tantissimi auguri di buone feste, buon Natale, buona fine, buon principio, tutto. E un bacio grande da Paolo Conticini. Ed è tutto per oggi. Vi ricordo che non solo Radio va in replica anche lunedì alle 8.55 e che potete anche vederlo su Antenna 1.fm e su spettacolomania.it. Alla prossima settimana. Grazie. Grazie.